Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova Oka Zinal 2. Avete presente la Zinal 1 dell'anno scorso? Ecco, dimenticatevela completamente perché questa è totalmente diversa. Adesso la vediamo insieme all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche di questa Oka Zinal 2. Per quanto riguarda la suola, troviamo una Vibram Make-A-Grib Light Base con tecnologia Traction Lug, con un tassello da 5 mm. Intersuola con un drop di 5 mm in eva, il peso totale è di soli 227 grammi nella taglia 42. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche, possiamo iniziare con i pregi difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di questa Zinal 2. Come dicevo, Vibram con mescola Mega-Grip, tecnologia Light Base e Traction Lug. Allora, il Mega-Grip si sente. Quando andiamo su roccia bagnata, umida, tengono veramente molto molto bene queste scarpe. Quindi in Mega-Grip si sente. E si sente anche il Traction Lug, perché quando andiamo su fango, veramente hanno un'ottima tenuta. Quindi diciamo che è una scarpa che tiene praticamente ovunque. Ha un compound abbastanza morbido, però veramente è una suola che tiene un po' ovunque. Quindi suola sicuramente promossa. Passiamo invece all'intersuola di questa Zinal 2. Come vi dicevo, Ineva ha un'intersuola abbastanza basso, perché comunque è 30mm, 25mm sull'avampiede. Quindi comunque basso. Drop di 5mm abbastanza ridotto. È un'intersuola veramente super super reattivo. Tolte le Technics 2 che hanno la piastra in carboglio, penso che queste siano le seconde più reattive della gamma OCA. Veramente con queste scarpe potete correrci a dei ritmi folli. Potreste correrci anche a 3 al chilometro e veramente sentireste la risposta. Poi vediamo perché è più consigliata questa scarpa. Però davvero ha un'intersuola molto molto reattiva. Il problema in questa scarpa è che si scaviglia molto. Ma di questo magari ne parliamo dopo quando ne parliamo del tallone. Questo intersuola molto basso e anche ad alta densità le dà modo di essere inoltre una scarpa molto precisa. Perché davvero anche quando corriamo su roccia, su punti un po' sconnessi è veramente molto precisa. E soprattutto di proteggerci bene dalle rocce. Anche se andiamo su rocce particolarmente affilate, non sentiamo dolore sulla pianta del piede. Passiamo invece a parlare della Tomaya che è una delle rivoluzioni rispetto al modello precedente. Per quanto riguarda il puntale, diciamo che ha una struttura praticamente nulla. Veramente qua se ci prendete dentro in rocce o radici sentite tutto il dolore. Perché veramente la struttura è praticamente uguale a zero. Tomaya molto traspirante. Veramente super super traspirante. Tomaya che veste molto a calzino e vi assicuro che quando la mettete su, complice anche i lacci, come poi ne parliamo dopo, veste veramente molto molto a calzino. Fascia molto molto il piede. Quindi una Tomaya molto traspirante, come vi dicevo, ma che davvero fascia super bene il piede. Una Tomaya poi che non ha per nulla struttura. Zero struttura. Qualsiasi cosa toccate dentro sentite male al piede. E soprattutto nei traversi veramente non vi sorregge per nulla. Continuando sul tallone riprendiamo lo stesso discorso. Ovvero che c'è zero struttura e zero sostegno. Un tallone completamente destrutturato. Un tallone che non ci tiene in carreggiata. Un tallone che se avete problemi di scavigliamento qua veramente prenderete un sacco di storte. Questa scarpa è ideale per chi sa correre bene e non ha problemi di caviglie. Perché se no veramente con questa scarpa ci prendete tantissime scavigliate. Tallone poi che ha una parte superiore un pochino imbottita per darci un minimo di comfort. Ma che veramente è super minimal. Ed è super minimal anche la parte di linguetta e lacci. Ovvero parliamo di una linguetta praticamente inesistente. Perché è tutta Tomaya cucita insieme. Abbiamo una piccola ghetta nella parte superiore per evitare che entri del materiale indesiderato. Quindi anche se avessimo correre su qualche pietraia con dei sassolini eccetera. Nessun problema. E la pressione dei lacci si sente. Quando andiamo a stringere non avendo una linguetta imbottita vi assicuro che si sente. Soprattutto in discesa si sente molto. Quindi se siete persone che stringono veramente tanto i lacci questa non è la scarpa per voi. A livello di soletta qui troviamo una classica soletta di oca removibile. Però mi ci sono trovato bene. Andrei avanti a utilizzarla. Quindi anche la soletta va bene. A livello di calzata questa scarpa ha una calzata veramente molto molto stretta. Vi assicuro che io nonostante abbia preso il mio solito numero la sento abbastanza stretta. Quasi da prendere un mezzo numero in più. È voluto. Sicuramente è voluto perché vuole essere una scarpa molto precisa. Molto fasciante. Però andatela a provare perché vi assicurava una calzata veramente resicata. A quale runner consiglio di utilizzare questa Zinal 2? Secondo me è utilizzabile da runner innanzitutto molto leggeri. 75-80 kg massimo ma già 75 siamo all'extremis. E poi runner che corrono. Runner che corrono. Gente che va veramente molto veloce. Gente che non cammina quasi mai. E soprattutto runner che hanno un'ottima tecnica di corsa. Perché la scarpa non vi perdona nulla. Dovete avere un ottimo passo, un ottimo appoggio, un'ottima anche muscolatura per riuscire a sostenervi lateralmente dove la scarpa non arriva. Davvero per atleti elite. Elite. Medi atleti se proprio siete leggeri avete una buona tecnica. Ma secondo me questa scarpa soprattutto per atleti elite. Su quali tipi di terreno vi consiglio di utilizzarla? Diciamo un po' tutti. Prendo ad esempio una gara che magari parte dai 1.500 di quota. Arriva a 2008-2009 e poi riscende. Con una salita e una discesa unica. In cui magari partiamo dal fondo valle. Pian piano saliamo a single track per arrivare anche su roccia. Quelle sono proprio le gare dove questa Zinal secondo me dà il meglio di sé. Grandi dislivelli, gare comunque corte. Io personalmente penso che al massimo massimo arriverei a 40 km di lunghezza. 30 è decisamente meglio. Però sì, gare corte, gare dove ci vuole molta esplosività. Arriviamo dunque alle conclusioni. Vi consiglio queste Zinal 2. Sì, vengono vendute a un prezzo di circa 180 euro. È una scarpa estremamente leggera. E questo si sente quando andiamo a correre. Veramente molto reattiva. E davvero quando correte veloci vi dà un'ottima risposta. È una scarpa che dovete prendere in considerazione. Se volete vincere delle gare corte con tanto dislivello. Detto ciò ragazzi. Una speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!